Uttio, siamo su Mental Hospital 4, perché iniziare dall'1 per me è troppo faticoso, quindi parto subito dal 4 per fare il 5 e poi andrò 3, 2, 1. Questo dovrebbe essere un gioco inquietante. Mental Hospital 4, Alice o Alice, Madness. Investigazione, continua, settings, va, investigazione. Oddio il caricamento, sembra una cosa della tv degli anni 80. Telefono squilla, e quindi lascio lo squilla. E chi è che chiama quando è così tardi, ma porca miseria, stavo cercando di dormire. Dovrei aver spento questo telefono prima di andare a dormire, beh, mi sa che sei sensato. Sta arrivando, porco cano. Tizio, ascoltami, di sicuro rispondi al telefono. Perché? Perché devo rispondere al telefono? Oddio che televisione! Quanti pollici è sta televisione? Questa è casa mia? Che bella... Oddio questa è casa mia, bellissima! Che è questa cosa rossa? Boh, sarà... Oddio questa è una chitarra? Non penso proprio, è un ba... Dov'è? Ah qua, ma a te portarti il telefono proprio dove dormi? No, troppo fatico. Sì? Chi è? Buonasera signore, voglio... Voglio... Mi sento in colpa per la chiamata in ritardo, chiamata proprio a quest'ora, ma è importante. Mi scusi, chi è lei? Mi chiamo Mark. Non ha importanza, voglio che tu... Io voglio che tu sappia che il signor Peter è l'ospedale dove c'è Alice, Alice o Alice. Controlla la tua email e io ti aspetto? No! Signale ritardato, c'è un segnale debole. No, perché devo andare a controllare l'email? E dove la controllo? Sul telefono, no? Cioè c'è il telefono dove controllo l'email? Sul computer? Perché dal telefono è troppo faticoso? Ma io boh... Dov'è il computer? Cioè il computer te lo ti... Da gaming! Da gaming non ti faccio un... Ma io non c'ho tutto, c'ho il tablet, c'ho il computer... C'ho lo dovuto e ho il tele... C'ho lo dovuto e ho 50 pollici? Signor Mark, sì, sì, sì... È costato molto cercare di scriverti questa lettera, ma qualcuno doveva più farlo. Tu sei uno dei pochi che mi ha fatto interessare un incidente con il signor Peter all'ospedale. La ragazza di nome Alice, lei ha un indizio su cosa è successo. Voglio che tu dica tutto. È troppo pericoloso scrivere questo nella lettera, quindi... Incontriamoci a S.T. Maria nell'orfanotrofio. A mezzanotte, sì, proprio a mezzanotte. Perché alle tre del pomeriggio, alle cinque, ti dava troppo fastidio, vero? Dove sono rimasto? Qui è dove l'orribile storia è partita, non andare in ritardo. Sì, eppure... Non vedi neanche... Prendete le camera, va bene. Sì, però non me le dici dove... Perché non passo da qua? Sei troppo grasso. Hai mangiato? Oddio, è questa? Oh, è gigante. E quindi queste sono le batterie, ora le posso pigliare. Abbandono l'appartamento, ma guarda, ma se devo andare in un manicomio abbandonato... Io mi rimarrei anche qua. E allora, andavo via dalle scatole. Ma io sono da sola in casa. Che? Che c'è qua, la lavaterina? Ah, no, via, via, via. Ma scusami, no? Scusami, no? Ora io voglio dire. Perché mettere il cesso qua, insieme a tutta l'altra roba, ti dà troppo fastidio, vero? Cioè, te dico, vabbè, io vado a cagare qua. Tra l'altro non c'è neanche la cartigenica, cosa? Io cago, poi, con il culo sporco di erba, devo andare qua e lavarmi qua. Cioè, ma che cacchio... Oddio, che vita brutta. Va via, via, via. Cioè, devi proprio camminare... Perchè ti dava fastidio mettere il gabinetto e il lavandino e la cartigenica. E il bello è che non c'aveva neanche... Ho aggiunto qualcosa al giornalino? Ah, me ne frego, non c'ho voglia di leggere. Questa è la mia macchina? Oddio, ok. Vabbè, non si vede... Qua ci sono due lanterne che mi... Oddio, no... Aperto? Apre. Qualcosa mi dice che nel finale non sarà proprio che le porte si apriranno e mi diranno il benvenuto. Mi sa succedere al contrario. Oddio. Sembra un manicomio di Outlast. Guarda. Tra l'altro ci verrà anche Outlast. Che? Uno strano disegno? Oh, questo disegno è più inquietante di non so che cosa. C'è un tizio che chiama, aiuta al telefono, una bambina con un coltello e il sole che piange sangue. Ah, questo... Me la metto nel notebook. Vabbè, entriamo. Sì, va, bussiamo tanto. Ma... Non c'è nessuno? Tu credi? Tu dici? Chiuso. Eh, sì. Va, allora torniamo indietro. Dov'è quel tizio che mi doveva incontrare a mezzanotte? Per me non c'ha voglia di venire anche lui. Secondo me si è addormentato. Che è sto cosa? Tutto... Ecco ci sono delle candelini. Oh, quello è davvero un cane di una razza molto strana, ragazzi. Quello sono io? Che bello che so. Chi è che mi sta spiando tra gli alberi, tra l'altro? Mi sa che è quel cane della razza strana di prima. Bravo, torna indietro. Torna indietro. Mi sa dove è andata di qua. Scusami, ma quel cane lì lo vorrei anche io. Sto scherzando. Che c'è qua? Non si vede nulla. Anzi no, sì. Un po' il po' si vede, perché ci sono le antenne, però. Le antenne. Buongiorno, bella sta panchina. Non è una panchina, decisamente non è una panchina. Salve. Qua c'è un tronco. Che è? Madonna. Oddio, mi sembra... Io che devo fare qua, però? Dimmelo se... Ha tutto chiuso. Deve entrare nell'albero? No, non ci voglio entrare. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, l'entrata è di là. Oh no, non ci stacca più nulla. Qua si entra. E dillo prima no. Sembra... Che c'è qua? Nulla. Qua c'è un bel po' di ghiaine. Se a me qua non ci sale... Non ci sale la... Non ci cresce l'erba. Che è qui? Non c'è nulla. Perché sono venuto in un manicomio? Perché quel tizio mi aveva detto di venire qua. E poi non c'è neanche. C'è mamma in qua. Poi sti tizi... Ah, lo posso anche scoprire. No, non c'ho voi. Ma? Ma? Ma cos'è sta roba? Perché un tizio... Ma? Senti, andiamo via da Cogliomberi. Dove sono passato io per arrivare qua? Eccoci. Tanto lo so che va a finire male. Ma tanto dai a finire male. Questa chiave... O è la chiave per il parco giochi... O è la chiave per il manicomio. Mi sa che è la chiave per il manicomio. Da qua sono entrato? Oh sì, da qua. Da Cogliomberi. Che c'è adesso? Ma ti sembrava che dovesse entrare nel manicomio proprio in maniera... Oddio, no. Chi è sta? Salve, signore. Eccole il cane di razza strana, ragazzi. Devo correre, vero? Devo correre via dalle palle. Via! Corri, maledetto rincoglione. No, sì. Questa si stanca, però. Muoviti. Entra! Entra! Oh! Perché ti stanchi dopo cinque secondi di corsa? Cioè... Corri, corri, ma sono stanco. Basta. Sì, eh. No, non puoi. Fammi questo. Eh, sono entrati. Va, va, vai. Note. Orfanotrofio. Ma non me ne frega delle tue note di erba. Dell'orfan... Vuoi giocare... Vuoi giocare a calcio? Vabbè. Eh... Cosa? Oddio! Al posto di spingere la palla ci salto sopra. Cioè... Non si sposta, eh. Ma ci salto sopra. Ma che cos'è, starò? Salve. Altre batterie? Sono sorpreso che questo computer funziona ancora. Forse c'è qualcosa di importante? Di data? Non me ne frega, ma c'è un'altra batteria. Non so cosa serve, ma la prendo. Serve un disco? Ma sai, addirittura. Non si vede nulla. Ma poi... Ah, vedi, è andato qua. Non si vede nulla, c'è tutto lezzo. Ah, vedi, ti dice sì. Ma guarda, a me piacerebbe giocare a Pokémon in questo. Apri. Sal... No! Guarda. Che è successo? Ti sento... Salve. Non l'avevo visto che dormiva qua prima. Mi dispiace disturbarla. Ma sto cercando un disco. Mi sa che lui non l'ha visto, quindi non è... Ok, magari uno è andato a dormire adesso. Sa... Sì! Ma... Cioè, scusami, è arrivato appena un letto di metallo in faccia e non ti si è fatto nulla. Boh, dimmelo te. Dimmelo te. Cioè, un letto di metallo in faccia. Neanche ha sbattuto io. Eccolo. Sì. Era questa la porta che si era chiusa e che non si apre? Sì, era questa. Dov'è sto disco? Ti apri? Ti apri? No. Si rifiusa. No, come abbasso io? Ah, così. Per cinque secondi, ma... Eh, ma allora il disco è qua, se non è... Che papà, perché dovevo trovare i dischi io? Non le può trovare qualcun altro? Perché ti abbassi per due secondi? Ma che è sta roba? Certo qua si abbassa per due secondi e poi risale. Ascoltami, se la porta è chiusa a me non me ne frega. Tu c'entri lo stesso. Un codice? Oh, palloso. Anche un codice devo trovare. Ma era aperta cinque secondi fa. Quindi chi è che è entrato? Ma sì. Mi sa che devo trovare un codice qui. Corri, corri va. C'ho voglia di camminare. Guarda, a qualche parte ci sarà un codice, giusto? Belle ste candele. Anche voi state sperando che la scuola non riapri il 7 gennaio? Bene, bene, bene. Sono contento di che voi guardate i miei stessi TikTok. Che? Perché voglio aprire la finestra? Ti voglio buttare da qua, no? Cioè... Corri, corri, corri. Cioè, si stanca dopo cinque secondi sto qua. Ma ma ma... Eh, ma io come raggiungo con la porta laggiù? Non la raggiungi. Fai prima. Scusami. No, non la raggiungi, non puoi. Oh io io Adoro aggiungerti qui la porta Là giù in cima Questo è che serve Ah la telecamera Ti vedi al buio Beh L'ho capito adesso Ah ecco le scale Che portano qua Accendi Accendi Ma fa anche il rumore Ma vai spacchiamo le finestre Vai spaccherò anch'io Però poi devo ripagare danni Qua c'è un foglio Ma cos'è sta roba Posso pigliare sto foglio Posso farmi vedere Note No non è note Computer no Note E dov'è Forse c'è un Oh no Oh no Ragazzi Che c'è laggiù È lei Oh cacchio Oh cacchio Oh Vorrei vedere il disegno Non posso Picture Oh eccolo C'è un dottore pazzo 4152 L'avevo neanche visto Ma lì c'è la tizia Via via Corri 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 Non me ne frega Speriamo se ne vada C'è la tizia ragazzi Avete visto Era nel balcone Ancora lì No Se n'è andata Va meglio così Va almeno Non mi ha coltellato A dietro O forse sto andando Dove voglio andare Via La porta Sembra non connessa Non posso aprirla Ok Allora 4152 4152 4152 Pia qua Allora 4 4 No Su 1 5 2 Oh E qua E di No I bambini Ma Mi sta guardando Ok Ok Signorino Qua Tanto È inutile Ti ho visto Ti ho visto Ah Vedi Perché Aspetta Perché dovevi fa così Ti ho visto Bambino Aspetta Fammi fare Ecco Ti ho visto È inutile Che fai finta di niente Perché Ti ho visto L'ho detto Ti sei trovato un disco Le Mi sa Oh Oh Sì Grazie Sono molto contento Non ti ho detto E dai Parla Però Allora Salve Continua a ridere Ti stacco le orecchie E te le faccio ingoiare Quindi Corri 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 Di bambini O di bambini O di bambini Oh Siamo tornati qua Metti il disco Oh Sì Leggici te qua Hai trovato qualcosa di utile Ah Sta caricando No Viti però 9 Entri Sabina De Dottore Già Ma che Non c'è scritto nulla Note Dor Ho aperto la porta Questa porta No No Quella è il muro Questa porta Oh Oh Finalmente Basta 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 Nova Entri Ancora 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 Devi scrivere sul tuo giornale Basta Basta Finesco Qui Questo non è un Interrato Questo è un lago di piscio Nel prossimo episodio Saremo Sfabili Meglio Ma è meglio Guarda Meglio proprio Nel prossimo episodio Saremo in questo Sì Guarda Anche se urli Non ti vengo a salvare Quindi è inutile Che Ma queste sono Trappole per orsi No perché Non Ok Ok A quanto pare C'è un signore Molto Oddio Ah Culo nudo No Oddio Tutto No Nel prossimo episodio Dovremmo affrontare Sti tizi Ma Mi fa male Oddio Quanto sei bello Ok Vai via dalle scatole Mi sa che l'ho fatta arrabbiare Mi sta seguendo No Si è inciopato lì Sono qua Oh Eh si Ascemo Ah Oddio Mi sta seguendo Via via Cos'è Sto Dio Ah 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 No No Sì Mi ha fatto Morì Mi ha tirato Uno schiaffone Ah Proprio mi chiude La samba Tutto Come faccio Ancora A sbattere Gli occhi Se sono morto No Io vorrei Delle risposte A questa domanda Però E come faccio A vedere Anche se sono morto No vabbè Basta Quelle domande Nel prossimo Episodio Dovremmo affrontare Sti tizi Che Mi sa che Non hanno voglia Di Giocare a nascondino Con me A quanto pare E quindi Mi sa che Si è rimesso laggiù Ah Perché la videocamera Si vedeva bene Nel prossimo episodio Dovremmo affrontare Sti qua Sperando Di farcela Abbiamo ancora La chiave Tra l'altro Non l'abbiamo Buttata via Vabbè Arrivederci Non si vede Si vede Si vede Cioè se io Sarei andato Con la videocamera Spenta Ma avrebbe Sarei preso Un infarto E poi E qui Vabbè Andiamoci lontano Che lì poi Non gli piace Avere I tizi Ma perché Non va più la videocamera Ma io posso Tornare indietro No Perché vabbè Allora Lascio vedermi qua Oddio Volevo vedere anche Il primo disegno Perché Guardano Ok Vabbè Vabbè Fammi vedere Stranger Sembra Però almeno Gli ha fatto La tomba Mai Mai Vai Almeno una cosa Gli l'ha fatta E nulla Al prossimo Video di questo Gioco di erba Qua Nel menù Che Vai Basta Tra l'altro Sono sicura Al 200% Che in italiano Non c'è Wow Polacco Cos'è il polacco Non lo so Oppure inglese Però gli altri no L'altra lingua Sono bastarde Quindi non si meritano Ultra Ho messo le grafiche A ultra Forse non dovevo farlo Ma non me ne frega Addio Nel prossimo episodio Ecco Adesso mi la greta Schifo E sono